Ballando con le stelle. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro ancora insieme. Il legame tra Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci non si è spezzato dopo ballando con le stelle La coppia più discussa dell'ultima edizione del talent targato Milli Carlucci è tornata a danzare insieme in queste ore Giovanni Ciacci ha infatti postato uno scatto, visibile a destra, in cui posa accanto al suo maestro di ballo, scrivendo su Instagram. L'esperto di stile, ospite al Kissummer Tour si è ritrovato con Raimondo Todaro La coppia ha postato un video, visibile in basso, in cui Immortala l'incontro. Ballando con le stelle, ha regalato a Giovanni Ciacci non solo emozioni forti, ma anche un'amicizia solida, come quella con Raimondo Todaro La coppia è stata fortemente criticata durante le prime puntate di Ballando con le stelle In particolare un commento di Ivan Zazzaroni aveva sollevato un polverone. Le critiche mosse dal giornalista, e giudice di Ballando, a Ciacci e Todaro avevano fatto parlare anche di omofobia nel programma condotto da Milli Carlucci Tutto poi era rientrato, grazie alle rassicurazioni della conduttrice e all'abbraccio tra Giovanni Ciacci e Ivan Zazzaroni, che aveva sancito la pace Raimondo Todaro in compagnia di Giovanni Ciacci dopo Ballando con le stelle In queste ore Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si sono ritrovati in Versilia Ospiti del Kissummer Tour, la coppia ha regalato ai follower su video divertente, visibile in basso Il video Tornerà protagonista in tv Dopo la pausa estiva e le vacanze al mare, l'esperto di stile, continuerà a dispensare consigli e suggerimenti a detto fatto Questa volta però Ciacci dovrà interfacciarsi con una nuova conduttrice. Bianca Guaccero Salutata Caterina Balivo, che sarà protagonista nel Data in Pomeridiano di R.A.I.1, l'ex protagonista di Ballando, affiancherà l'attrice di Bitonto, tornando sul piccolo schermo con i suoi cambi look, le pillole di Gossip, e le pagelle di Jojo In questi giorni Giovanni Ciacci ha fatto il tifo per Bianca Guaccero, posando insieme all'attrice sui social, e regalandole massaggi carichi di affetto Tra i due, sarebbe già nata una bella amicizia, a settembre il pubblico della seconda rete potrà assaggiare il loro affiatamento In questi giorni Bianca Guaccero ha ammesso che il suo obiettivo, tra un tutorial e l'altro, sarà divertire il pubblico a casa